Il libro che mi ha colpito particolarmente è Il Regno di Emmanuel Carrère ed è un libro molto affascinante per due motivi. Il primo è il tema che affronta. In questo libro si cerca di descrivere chi erano i primi cristiani e qual era il contesto storico in cui si è sviluppato il cristianesimo dopo la morte di Gesù, negli anni seguenti la morte di Gesù. Il secondo aspetto affascinante è lo stile, perché Carrère riesce a raccontare questa storia intrecciandola con la storia della sua vita, quindi è anche autobiografico questo libro. Nel suo viaggio di ricostruzione del cristianesimo Carrère affronta due figure fondamentali, la prima è Paolo. Paolo come persecutore dei cristiani prima, poi convertitosi, e nel suo viaggio poi di conversione, di comunità in comunità, fino a che poi ne raggiunse Roma e li morì. Il secondo personaggio descritto è Luca l'Evangelista e questo è molto affascinante perché Carrère riesce a raccontarlo, a descriverlo come uno scrittore, quindi quasi guardandolo negli occhi, da collega a collega.